bello ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono lej e oggi siamo su 4guys con wargamer ciao allora ragazzi questo video lo sto facendo lo stiamo facendo in live sul sito allora il 19 agosto io lo sto facendo il 19 agosto però questo video probabilmente lo vedrete in 20 però vi dico solo che world di 19 ha fatto una live lo dico al passato perché sto video vedete sicuramente al b20 non lo so non lo so ragazzi perché entro oggi non penso possiamo caricarlo quindi domani o dopo domani perché ragazze abbiamo dire però le date in cifra se no non capiscono e ma non lo so però ragazzi uscirà e ragazzi quando abbiamo ovviamente finito di fare il video no no lo programmeremo per per un giorno ragazzi quando sarà finito di programmare possiamo farlo perché ragazzi io con il pro siccome ale ha un nuovo programma per editare il video odio editarle nel senso mettere qualche effettino oppure fare qualcosina per migliorare la grafica però sì ragazzi di comunque l'impegno ci deve essere non è che devi fare il caso è comunque e io e ale useremo un programmino che non voglio fare nome e lo modificheremo sia il mio video sia il tuo video in modo tale che bene o male io comunque ragazzi il programma che uso per editare no non si dice perché no e non vorrei già quando ho detto però io non vorrei dire iniziamo questa partita perché sennò alla fine c'è annoio ok ragazzi perché siamo già due minuti di video dove non abbiamo dove non c'è partiti ma abbiamo dovuto spiegare un po' e va bene no questa porta che si chiude si chiude si chiude mi ha rotto ecco questa sarà una porta tagliata per esempio comunque ragazzi ma dai ma dai ma dai ma si è aperta di nuovo va beh ragazzi a parte le porte che si apre si chiude si chiude parano e malattiviti parano e malattiviti allora tu sei pronto vuol raccorrere no ma come no 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 e se corri ti danno la nutella Ma perché non me l'hai detto prima? Corriamo! No, ma... Ok Voglialà! Ragazzi, comunque in questo livello delle porte Io c'ho sempre C'ho sempre sedere Perché ragazzi è facilissimo Sto livello, veramente Ovviamente se non ci sono persone Che ti rompono è facile Se invece ci sono persone Che ti rompono è difficile Comunque ragazzi siamo arrivati In top 20% E dobbiamo assolutamente Arrivare almeno A 10 qualificati Se no io Non sono contento Ah vabbè 10 gatti Eh vabbè Eh ho capito 10 gatti Perché capissi male Quello che dico E perché ho lagato Ragazzi questo video sarà tutto lagoso Sì Allora speriamo che non è Che non è Io spero che non sia tipo Quello delle uova Ah no Questo è bello Questo mi piace È uno dei miei preferiti È uno dei miei preferiti Speriamo Speriamo di vincere tutti e due Perché comunque io sono Sarei molto più contento Vincere tutti e due Poi non lo so Vabbè Andiamo andiamo Allora Ok Mamma mia Stavo cadendo Poi Scialta 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 E sono caduto Ah e io non ho ancora Affortunatamente Allora Io sto Continuando ad andare Contro la gente Infatti vi domando Ragazzi ma Sto andando contro La gente È una cosa che si fa Tutti i giorni No? Vabbè contro La gente Che resta È una cosa che si fa Tutti i giorni No? Eh sì Eh Appunto Però adesso Stiamo Stiamo andando Abbastanza bene Un secondo Beh 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 Basta Basta Portare sfiga Perché se no Io giuro Che ti ammazzo Ammazzami No Ma quant'è che si eliminano Questi due Vorrei sapere No per Abbiamo perso Abbiamo perso Completamente Però Siamo ancora Io voglio L'attività Di gruppo No io voglio Tutto Voglio Quello di gruppo L'hexagon E quello dove si salta E poi sono contento Ma anche io Lo voglio Secondo te Io secondo te Cosa sto Desiderando L'hexagon Cosa hai detto Vieni qua Che ti ammazzo Figlio di Insulti a parte Eh Perché non facciamo Questo livello Ma tu ti vorresti Ammazzare Sì Ma come sì Va bene Ci dobbiamo Ammazzare Allora Ragazzi Dopo questo livello Nella vita vera Non ci Avrete più Perché Siamo già La morte La morte Di Wargamer In diretta Eh Siamo stati trovati Sull'autostrada A piangere A piangere A piangere Perché non hanno avuto La ragazza Una corona Su Fall Guys Anche E quindi Ci sono scegliati E niente da fare Comunque ragazzi A parte di scherzi Io non ho mai fatto Una vittoria Cioè Non ho mai Vinto Una corona Su U I Ragazzi Dittemi Che cosa ne pensate Di Fall Guys Io ti ho visto Cadere Ti ho visto cadere Un secondo dopo Sai Ragazzi Finora Il video Si è andato tutto bene Io che mi spero Che speravo In tanto Il backstage Bellissimo Invece no Di solito I video Rifelliamo Come dei maiali Vero Ale Ma perché Noi siamo Maiali Non è vero Ale Non sono un maiale In realtà Adesso si è Un po' Proprio Però Ah no Aspetta Adesso è un maiale Ok No 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 Ragazzi Che culo Beh Menomale Che Io non ti ho visto Cadere No Questo mi trattiene Sto bastardo Ma dove sei Tra l'altro Ehm Bra Non sono riuscito A dare Ora Sì Perché Tu Mi Tu Veramente Pensi Di Sì A Pigliarmi Per Siedere Sì Se tu vuoi la morte Lo vedrete Lo vedrete Integato 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 Ragazzi Lo vedete Integato Ma vuoi che bestemmi Sì Ok No No Ok Porco Dopo la bestemmia che ho detto ragazzi O comunque Che almeno Una besticola bestemmia No Sì Vuoi una che perché Mi insulta Alle Fai schifo Eh Ma Ehm Credo di averti visto Ma dove sei? Ah Eccoti Non ti vedo Eh A parte Uo che sta morendo Noi andiamo avanti Giustamente No Che fai C'è un tuo amico Che è in pericolo Che fai Lo salvi O vai al traguardo Ovviamente Vai al traguardo No Sì Tra l'altro Mi sa che arrivo pure primo No Ragazzi Se volete Se voi avete GTA 5 No No Dici Le tue pelle di saggezza Ehm Avete la mod La mod E volete giocare E giocati in un server A rapino Guardate benissimo Se volete Se ci conoscete Se ci volete Se Cioè se siete Non si fanno Se volete Potete entrare Nel server Dove noi giochiamo Ragazzi Se volete Se volete Perché se non volete Ragazzi Aspetta Mentre che siamo in live Non si sniperate Se no poi Ragazzi Ragazzi è capace Che mi dannano Quindi magari Eh ma Sto parcur Di me Sto parcur Mi ha rotto Mi ha rotto Le pastole Beh Però sappiamo Come citare Ma perché Proprio citare Stavo cadendo Non cito più No Non città No Ho detto Però io sono ancora vivo Aia E tutto questo Però sono ancora La porta Che sta continuando A sbattere Mi ha rotto Eh ragazzi Io sono Mi ha uscito You're been disconnected Forever Che bello Che bello Sì però Se muoio Io mi cravolo Non scherzo Io non scherzo Ragazzi Io quando dico una cosa Non scherzo Porco Andiamo alla prossima partita Va Tu che dici No Vieni Vabbè Io lo faccio integrale Integrato Io lo faccio integrato E' rotto il cavolo Con questa cosa Ok No E' bucci tornati In questa bellissima mappa Comunque Posso dire Che con questa mappa E' fatta bene Ed è molto semplice Però tu comunque Al traguardo C'erri queste Ma vabbè Quelli c'è un dettaglio Però E' semplicemente E' son caduta all'inizio Sono caduta all'inizio E vabbè Succede nella vita Sì ma skycrime No Vuoi che ti ammazzi Sì Da 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 Oh mio dio Era caduto Ma non Non di sotto Fortunatamente Io sto facendo Tutto il livello Tra l'altro Senza saltare Come senza saltare E non sto premendo Adesso la devo premere Perché se non voglio Beh potrei anche premere Tasto destro Ma visto che io Mi voglio Ma io premo ctrl Anziché Ma ctrl Ma ctrl Premilo Eh lo so Anche con e si può fare Però io prepisco Tasto destro E' vero Pure con e Però io prepisco Tasto destro Eeeh Io mi... No 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 Qualificati dai Che la puoi fare Credo in te Io No 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 Va bene Basta Vabbè dai Ti qualifichi Vabbè Non è Io cazzeggio Alla fine Eh bro Eh ci sono Il 34 Che si su Eh adesso Ti sei qualificato Grande bro Pensavo fosse Il calcio Siamo con Le palle Che devi Bufino Ecco Ecco Io sono Della squadra rossa Anch'io Aspetta Se siamo Della squadra rossa Abbiamo vinto Allora Per forza Eh beh Direi Per forza Cioè Voglio Ciao ragazzi Una piccola Introduzione Del video Vi voglio Dire Una cosa Di Wargamer Allora Lui Fa Le live Non 40 palle però era una che era detto ma perché sempre i rossi non vincere adesso a che lo così come possibile che stiamo prendendo mannaggia c'è una hacker nella squadra nemica semplicemente poi no 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 e noi non possono perdere il top siamo a zero no no ci sono anche ragazzi da noi si mettete queste non posso perdere per questa modalità schifosa dai sì ma siete sì ma la nostra squadra non stanno in difensiva ma sono ma è vero ma vabbè non sono in difensiva e ovvio diamo di testa forse no forse no forse no ci deve essere ci deve essere l'uvertà ma l'uvertà oddio che c***o mamma mia che sedere che sedere vabbè ma comunque i rossi devono per forza vincere o si qualifica ma comunque ma perché 28 ma che ne so può essere in dieci fate vogliar di gioco questo è bello questo è un apportato fortuna di schiena no vabbè non le doppiate giro rinome e quindi non lì ok andiamo avanti ragazzi questo è il nostro minigioco preferito oddio è il mio secondo preferito perché il mio primo preferito è l'exagon il mio preferito è questo avete presenti in minecraft che c'è che ci sono le tnt che tu ci cammini sopra e cadono è quello ma non la mia città ma tutti mi trascinano perché sono semi no 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 ah 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 tranquillo sono ancora vivo io ah ah spero che questo video vi sia piaciuto questo video è stato dei perdenti Allora questo video lo vedrete probabilmente il 20 agosto perché io Innanzitutto non ho tempo di editarlo in questo momento perché comunque devo stare in live anche con World che serve che comunque se lui è in live non è che è un video e poi comunque E' sempre meglio vederlo il 20 agosto perché il 19 è brutto No veramente Vabbè ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto delle nostre partite bellissime Spero che questo video ragazzi non vi sia piaciuto Lasciate un bel dislike Non iscrivetevi e noi non ci vediamo al prossimo video Però dovete pensare il contrario Bella ragazzi Ciao Ciao